Salute a tutti! In questo video cominceremo a dare un'occhiata alla famosa lettera spontanea scritta da Giancarlo Lotti, ma prima di arrivare a questo argomento rimaniamo ancora un po' sulla sua personalità e su alcuni aspetti, su alcuni elementi che nei due video scorsi non ho affrontato. Cominciamo da questo, il mancinismo di Lotti. Nell'incidente provatorio leggiamo questo scambio tra l'avvocato Santoni Franchetti e Lotti. Franchetti, usa la destra o usa la sinistra? Lotti, come sarebbe a dire? Lotti è sospettoso, perché mi fa questa domanda? Franchetti, quando mangia? Lotti o la sinistra o la destra? Secondo. Franchetti, tutte e due, è indifferente la sinistra e la destra. Attenzione! O la sinistra o la destra, secondo. Lotti, perché? Che c'è un motivo? Franchetti, no no, è una domanda. Di molto mangio a sinistra, perché sono mancino. È mancino lei? Chiede Franchetti. È mancino, ma usa anche la destra, voleva sapere l'avvocato. Interviene il giudice. Lotti, no, qualche volta, ma io ormai sono abituato a questa sinistra. Giudice è abituato alla sinistra. Sarà di natura, non lo so, dice Lotti. In dibattimento l'argomento venne affrontato da Filastò. Filastò, dica una cosa Lotti. Ho visto che quando lei faceva vedere come aveva preso questa pistola che le avrebbe passato Pacciani, lei usava, ecco, così. L'ha presa così? Qui si era parlato del fatto che a Lotti, a Giogoli, Pacciani aveva passato la pistola per indurlo a sparare per primo. E Lotti aveva mimato questo passaggio della pistola usando la mano sinistra. Già ancora Lotti, io, a dir la verità, sono mancino, sicché un necche. È mancino? chiede Filastò. Sono mancino io. Oh, questo volevo sapere. Lei è mancino, Lotti, però di molte cose possa adoprare anche la destra. Dunque, Lotti era mancino. E ora, il fatto che Lotti fosse mancino può aver avuto qualche influenza sulle sue difficoltà a scuola, per esempio, o anche sulle sue difficoltà nella vita? Beh, allora, essere mancini non è chiaramente un problema, no? Però può essere che qualche persona più fragile delle altre possa sentirsi in qualche modo diversa dalle altre, visto che di mancini si sa che ce n'è circa uno su dieci. Ma comunque, leggiamo da questo sito. Ecco, vediamo qui questo sito. Il mancinismo in psicologia. Nelle antiche civiltà, il mancinismo era spesso visto come sospetto o considerato un segno di diversità. Durante il Medioevo e fino ai primi del Novecento, la percezione del mancinismo subì un'evoluzione significativa. Pratiche storiche di correzione del mancinismo, come l'uso di legature o la forzatura a scrivere con la mano destra, erano comuni, dettati da motivazioni culturali e pregiudizi che privilegiavano la destra come mano dominante e consideravano la sinistra come mano del diavolo. E io qui ricordo che era anche una questione religiosa, cioè la religione cristiana vedeva l'uso della mano sinistra come un qualcosa di esecrabile e non a caso si chiamava la mano del diavolo. Oggi la percezione e l'accettazione del mancinismo sono cambiate radicalmente. Essere mancini non è più visto come una deviazione da correggere, ma come una variazione naturale dell'essere umano. Leggi e politiche educative moderne hanno infatti riconosciuto l'importanza di rispettare la dominanza manuale dei bambini, scoraggiando pratiche di correzione forzata e promuovendo l'inclusività. E questo sicuramente oggi è così, questo articolo è del 2000-2022 insomma, oggi sicuramente è così. Ma ai tempi di Giancarlo Lotti era così? Sua madre, che era una donna sessuofobica e bigotta, nei riguardi del suo essere mancino, si sarà comportata nel modo corretto come la cultura educativa di oggi chiede di fare? Andiamo avanti con quest'articolo. Cosa cambia nel cervello di un mancino? La struttura cerebrale e la lateralizzazione del cervello nei mancini mostrano alcune differenze rispetto ai destrorsi. Nei mancini l'emisfero destro del cervello è spesso più sviluppato o più attivo per alcune funzioni, mentre nei destrorsi questa prevalenza si osserva solitamente nell'emisfero sinistro, perché si sa che la parte destra viene comandata dalla parte sinistra del cervello, la parte sinistra dalla destra. Tuttavia la lateralizzazione nei mancini può essere meno marcata, con una distribuzione delle funzioni cerebrali più bilanciata tra i due emisferi. E qui penso che sia chiaro, sia logico, perché un mancino vivendo in un mondo di destrimani è più portato a bilanciare la destra e la sinistra. Cioè lui usa la sinistra, però siccome è un mondo di destrimani è abituato a sfruttare anche la destra. Io credo che sia questa la spiegazione semplice, semplice, insomma da ignorante come sono io e come credo che sarete molti di voi su questi argomenti. Studi neuroscientifici hanno evidenziato che i mancini possiedono una maggiore connettività tra gli emisferi cerebrali, il che può tradursi in una maggiore plasticità neuronale e una capacità di recupero più rapida dopo danni cerebrali. Queste differenze strutturali e funzionali suggeriscono che i cervelli dei mancini possono avere alcune peculiarità che li distinguono da quelli dei destorsi. Che caratteristiche hanno i mancini per la psicologia? Le caratteristiche cognitive dei mancini e le abilità specifiche associate al mancinismo variano notevolmente. Alcuni studi indicano che i mancini possono avere vantaggi in compiti che richiedono pensiero divergente e creatività, probabilmente a causa della loro maggiore connettività interemisferica. Altri studi suggeriscono che i mancini possano eccellere in attività visuospaziali e artistiche. Tuttavia esistono anche svantaggi cognitivi per i mancini. Ad esempio potrebbero avere una maggiore predisposizione a disturbi dell'apprendimento e a problemi di linguaggio, probabilmente legati alla loro atipica lateralizzazione cerebrale. Nonostante questi svantaggi, la variabilità individuale è alta e molti mancini non sperimentano nessuna difficoltà significativa rispetto ai destrorsi. E qui l'articolo poi affronta un argomento molto molto delicato. Il titolo è Perché non bisogna correggere il mancinismo? Il mancinismo per molte persone, magari per chi ha un figlio, potrebbe sembrare uno svantaggio. In un mondo di destrimani un mancino si potrebbe pensare che avesse degli svantaggi e magari fosse opportuno abituarlo a usare la mano destra invece che la sinistra. Però questo sito dice che è una pratica che non deve essere fatta. Prima di andare avanti bisogna mettersi un po' nei panni della situazione di Lotti che, ripeto, aveva questa madre quando Lotti era piccolo, prima di andare a scuola, che aveva questa madre che era bigotta, che era iperreligiosa e che, come andava la tradizione cristiana di una volta, poteva vedere il mancinismo del figlio come un problema. Ma leggiamo quello che dice questo sito sull'argomento. Correggere un mancino, ovvero forzare una persona a usare la mano destra anziché la sinistra, può avere conseguenze psicologiche e neurologiche significative. La correzione forzata può creare un conflitto interno tra la preferenza naturale della persona e la pressione esterna a conformarsi, portando a vari disturbi. Attenzione, io poi ho letto anche altre cose, no? Non è che tutti i mancini che sono stati corretti, come credo che ce ne saranno tanti tra di voi, hanno avuto come conseguenza i disturbi che poi andremo a vedere, però può essere che alcune persone possono effettivamente avere questi disturbi e magari anche in modo grave, eh? Attenzione! Le conseguenze psicologiche della correzione forzata possono includere ansia, frustrazione, bassa autostima e stress. Dal punto di vista neurologico, la correzione può interferire con la normale lateralizzazione del cervello, causando problemi di coordinazione e difficoltà nell'apprendimento. La forzatura a usare la mano destra può anche portare a balbuzie, dislessia e disturbi del linguaggio, poiché la dominanza manuale è strettamente collegata alla funzione cerebrale. Io ho letto altre cose e qui si parla di dislessia. La dislessia è uno dei quattro disturbi del DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Gli altri sono disgrafia, disortografia, discalculia. Poi vedremo cosa sono. Continuo all'articolo. Inoltre, lo sviluppo emotivo di un bambino mancino può essere gravemente compromesso se viene forzato a usare la mano destra. Questo può portare a sentimenti di inadequatezza e insicurezza, influenzando le reazioni interpersonali e la capacità di esprimere le proprie emozioni. Ma allora, Giancarlo Lotti, poteva essere un mancino contrastato? Io penso che possiamo essere quasi certi che fosse stato un mancino contrastato. Perché ai suoi tempi, sicuramente a scuola, ma probabilmente con una madre così, fin da quando era un bambino o un infante, probabilmente si era tentato di fargli usare la mano destra. A scuola perché? Lui è nato nel 40, per cui lui ha fatto le scuole elementari. Dal 46 è andato a scuola fino a 14 anni, alle elementari fino al 54. A quei tempi si usava ancora il calamaio e il pennino. Io mi ricordo, ai miei tempi, ho iniziato la scuola nel 60, ancora nei banchi c'era lo spazio per mettere il calamaio, però già si usava la penna stilografica. Io ho usato la penna stilografica e si cominciava anche a usare la penna biro, però la maestra, mi ricordo, imponeva la penna stilografica perché con quella si aveva una grafia migliore e in effetti è anche vero questo. Però poi la penna stilografica è scomoda, mi ricordo pompette che si tiravano, c'erano poi i ricambi, lì era stato un passo avanti i ricambi che si buttavano via, però c'era sempre il problema di sporcare. Io immagino che con il pennino e il calamaio il problema era ancora più grosso perché l'inchiostro prima di asciugare ci metteva un pochino. Ecco, ora bisogna immaginare quale possa essere stato il problema dei bambini mancini essendo la scrittura da sinistra verso destra, cioè con la mano sinistra scrivendo si va a toccare l'inchiostro appena scritto, facendo dei danni, bisogna andare lì con la carta assorbente ma il foglio veniva rovinato. Per cui si può immaginare cosa facessero le maestre che assistevano a questi disastri con questi bambini, li costringevano a usare la mano destra. Ho sentito di persone che si ricordano che gli veniva proprio legata la mano sinistra al corpo per impedirgli di avere la tentazione di usarla. Le cose andavano così a quel tempo. Per cui poi c'è anche da dire che Lotti dice in dibattimento, dice all'incidente probatorio che lui usa anche la destra, o la destra o la sinistra secondo, per cui si era abituato a usare la mano destra, anche la mano destra. Però evidentemente questa forzatura che gli era stata fatta non ne aveva avuto pieno successo, cioè lui era rimasto mancino, ma questo sempre, no? Però c'è da dire che ci sono persone che nella correzione che loro hanno, diciamo pure che arrivano a dimenticarsi quasi di usare la sinistra come mano dominante. Rimangono mancini a quanto ne so in altri aspetti, per esempio l'occhio per prendere la mira, il mancino anche se corretto rimane sempre mancino. Ci sono altre cose, poi c'è il mancinismo di piede, è un argomento molto complesso che adesso non è il caso di affrontare, io poi non sono nemmeno in grado di affrontarlo. La cosa importante è sapere che Giancarlo Lotti fu un mancino contrastato e questa pratica potrebbe avergli provocato dei problemi. Io invito le persone a ragionare su quelli che erano i problemi di Giancarlo Lotti c'erano i problemi del linguaggio perché lui faceva fatica a esprimersi e tra i disturbi che può provocare il contrastare il mancino ci sono difficoltà di linguaggio, difficoltà di apprendimento. Giancarlo Lotti ha lasciato la scuola a 14 anni in quarta elementare. E' una cosa, cioè è stato bocciato tre o quattro volte all'elementare. Già ai miei tempi all'elementare non si bocciava quasi più, ma insomma essere bocciati tre o quattro volte all'elementare era veramente grossa. E poi era solo in quarta, cioè doveva anche prendere la licenza elementare, chissà quanto ce l'aveva messa a prenderla, no? E allora, il ruolo di questo contrasto del suo mancinismo, quale potrebbe essere stato, perché il problema di queste persone che dal contrasto al loro mancinismo ricevono dei danni, perché ripeto, io non so in che percentuale sono queste persone che ricevono dei danni, credo che siano abbastanza poche, però quando succede i danni possono essere anche gravi. Cioè queste persone possono sembrare poco intelligenti, semplicemente perché non riescono a esprimere la loro intelligenza, non perché sono stupide, ma per queste difficoltà che hanno, vediamole questa, la disilessia è la difficoltà di lettura, la disgrafia è la difficoltà a scrivere, cioè proprio c'è la difficoltà a tracciare il segno grafico, cioè la persona riesce a associare al suono, riesce a associare il simbolo giusto, la lettera giusta, però fa fatica a scriverla, è proprio una questione come se uno fa fatica a disegnare, io per esempio sono una schiappa a disegnare, e lì la fatica, la difficoltà è proprio anche di tracciare il segno grafico, infatti queste persone normalmente tendono per quanto possibile a scrivere in stampatello. La disortografia, che potrebbe sembrare la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, chi soffre di questo disturbo ha difficoltà ad associare al suono il simbolo giusto, cioè non riesce a capire dal suono quale simbolo usare, per cui sbagliano, scrivono parole lasciando fuori qualche lettera, oppure sbagliano la lettera, a un certo suono associano una lettera differente. E poi c'è la discalculia, che vabbè lì ci sono difficoltà per i calcoli, ma di questo non ne parlo, anche perché è una parte che su Lotti di questo non sappiamo niente, se non era capace di fare i conti, mentre sulle altre due, sulle altre tre invece sappiamo che Lotti aveva delle grosse difficoltà, comunque lo vedremo meglio. Direi che abbandoniamo l'argomento del mancinismo, però voglio dire, prima di abbandonarlo, voglio dire che fornare i ragazzi nella loro perizia non accennano minimamente a questo problema, e questa è una cosa un po' strana, perché due persone di quel livello penso che fossero a conoscenza di tutto quello che io ho detto, sapevamo benissimo che ci potevano essere questi problemi, per cui io penso che avrebbero anche indagato. Può essere che non avessero avuto la possibilità di accoggersene, può essere che Lotti non avesse dato loro modo di fargli rendere conto che era mancino e che usava anche la destra, non lo so è questo, oppure semplicemente ignorarono il problema perché non gli parve un problema importante per quello che loro dovevano andare a scoprire. Passiamo a un altro argomento, l'argomento della mitomania. Ecco, questo argomento della mitomania viene tirato fuori ogni tanto da qualche commentatore sotto i miei video, recentemente ce n'è stato uno, ma anche altri commentatori in altre sedi hanno sempre, così hanno tirato fuori, il discorso che Lotti era un mitomane. Cos'è la mitomania? Eh, lo leggiamo da questa pagina, lo stesso sito che parla di mitomania, un sito molto bello, devo dire. La mitomania è una condizione psicologica in cui un individuo mente in modo compulsivo e ricorrente. La caratteristica distintiva di queste bugie è che sono spesso elaborate, complesse e facilmente confutabili. In altre parole, i mitomani raccontano storie che si allontanano notevolmente dalla realtà, ma le affermano come verità assoluta. La mitomania è stata descritta per la prima volta da Anton Delbruck nel 1891 e approfondita da Ernest Dupré agli inizi del Novecento, ma resta un concetto ancora dibattuto in psichiatria. Nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali di BMS-DSM5 non figura come una precisa condizione patologica, ma come un sintomo riscontrabile in molteplici disturbi mentali. Ad esserne colpiti sono generalmente i cosiddetti bugiardi patologici, individui che mentono in modo continuo e sistematico. A differenza di altri disturbi come l'effetto Mandela, che dipendono da un difetto della memoria, la mitomania implica una deliberata manipolazione della realtà. I soggetti mitomani dichiarano il falso con la consapevole intenzione di ingannare. Cioè, i mitomani non è che raccontano storie perché ci credono, raccontano storie perché sanno benissimo che sono delle bugie. Queste bugie permettono al mitomane di nascondere agli occhi degli altri le parti di sé che considera deboli, come per alzare una protezione rispetto al loro giudizio. Così facendo può raccogliere ammirazione, approvazione e la sua autostima ne risulta accresciuta. Allora, su Lotti si è detto tante volte che era un mitomane, ma si è anche detto che avrebbe confessato questa sua partecipazione ai deliti del mostro per sentirsi qualcuno. E si è detto anche così, che è praticamente un qualcosa di molto simile alla mitomania. Cioè lui, che non era mai stato nessuno, con questo ruolo che ebbe nell'ambito dell'inchiesta dei compagni di Merende, diventò qualcuno. Diventò qualcuno, in che modo? Vabbè, si può vedere, però diventò qualcuno. Io non penso che Giancarlo Lotti possa essere sospettato di essere entrato nella vicenda del mostro di Firenze perché voleva sentirsi qualcuno, perché non fece niente, così, per affermare il suo personaggio di fronte all'opinione pubblica. Stette molto sulle sue. Ma abbiamo poi la testimonianza del parere di Fornari e Lagazzi che esclusero assolutamente la mitomania. In uno scambio tra Pellegrini e in questo caso Lagazzi si legge Pellegrini, che era un avvocato di parte civile, in dibattimento naturalmente al processo ai compagni di Merende. Dall'indagine da voi condotta vi siete potuti convincere o perlomeno avere qualche indicazione circa la possibilità che Lotti abbia raccontato quello che ha raccontato per una qualche mitomania, per un qualche interesse a rendersi protagonista? Ragazzi, direi che il comportamento del Signore è stato l'esatto contrario di quello proprio del cosiddetto mitomane, poiché è stato reticente, ha eluso molte domande, ha limitato le sue risposte, è stato molto attento a quello che diceva, quindi direi che non abbiamo trovato nessunissimo aspetto proprio della mitomania, ma anzi l'esatto contrario. Io direi che con questo intervento di Lagazzi possiamo chiudere definitivamente l'argomento della mitomania, cioè Lotti potrà essere accusato di qualsiasi cosa, ma sicuramente non di essere stato un mitomane. Adesso andiamo a un intervento di Frank Powerful. Frank Powerful, con il quale io mi sono scambiato anche delle mail, abbiamo avuto contatti anche molto approfonditi negli anni scorsi, poi abbiamo avuto un periodo così di contrasto, e adesso da buoni vecchiarelli diciamo che ci siamo ritrovati e rispettando ognuno il punto di vista dell'altro siamo ritornati ad avere dei rapporti normali, dei rapporti buoni. E lui mi ha scritto, allora Frank Powerful è autore di questo libro, Storia del mostro di Firenze, l'esordio. Purtroppo è un primo volume di quello che sarebbe dovuto essere una storia del mostro di Firenze fino in fondo. Peccato che non ha proseguito in questo lavoro, ottimo, assolutamente, e si leggono tante schifezze, e farebbe comodo avere così un testo da persona preparata come è lui, speriamo che magari gli venga la voglia di continuare. Una volta si lamentava che non aveva abbastanza materiale, e adesso un materiale del mostro di Firenze ce n'è tantissimo, io lo invito a continuare. Comunque, vediamo quello che lui mi ha scritto. Antonio, visto che stai per pubblicare la seconda parte in cui parlerai, a quanto ho capito, dei risultati della consulenza Fornari-Lagazzi, ti anticipo qui la mia opinione, cosicché, se vorrai, potrai anche indirettamente rispondere. Purtroppo, quando io ho ricevuto questa mail, avevo già registrato la seconda parte dei video sulla perizia. Gli rispondo qui. Nessuno pone in dubbio la competenza professionale dei consulenti, anche se qualche critica si può muovere, e l'ho fatto a suo tempo. Bisogna però vedere le domande del PM alle quali devono rispondere, e soprattutto il fatto che il committente dà per scontata la partecipazione di Lotti ai delitti, fornendo i documenti che lo comprovano, nella sua ottica. E questo è vero. Questo l'ho segnalato anch'io. Cioè, il limite di questa consulenza, correttamente lui la chiama consulenza, avrei dovuto farlo anch'io, o dico perizia, perché si è abituati a chiamare la perizia, però è più corretto chiamarla consulenza. Il limite di questa consulenza è proprio il fatto di essere una consulenza, per cui il PM dette l'incarico a Fornari e Lagazzi di fare questo esame su Lotti, praticamente imponendogli di considerarlo un reo confesso, un compagno di merende, insomma. L'aveva detto lui, e c'erano anche delle testimonianze che appoggiavano questo punto di vista, questo scenario. Fornari e Lagazzi non potessero far altro che prendere atto di questo, tanto più che Lotti di fronte a loro confermò quello che la documentazione che avevano ricevuto attestava, che lui aveva partecipato a questi delitti. Però correttamente Frank Povertum fa rilevare che questo è un limite di questo lavoro dei periti, ma è un limite che ha potuto far sbagliare il loro giudizio su Giancarlo Lotti, e questo è molto meno scontato. Ma andiamo avanti con il suo intervento. Quindi hanno da rispondere a quesiti specifici che non riguardano la colpevolezza, ma semmai le cause della partecipazione dell'indagato. E qui siamo d'accordo. Pur in questo quadro limitato, i consulenti si accorgono che Lotti nasconde qualcosa, per lui molto importante, ma ovviamente non possono immaginare cosa. Quindi la domanda è cosa veramente nascondeva Lotti? Questo è il punto. No, cosa nascondeva Lotti? È vero, i consulenti si accorsero che nascondeva qualcosa. E francamente fanno capire che nascondeva qualcosa che poteva essere qualcosa di peggiorativo rispetto a quello che lui aveva già confessato. Questo si capisce da quello che loro scrivono. Però potrebbe essere, secondo Frank Powerful, una situazione un pochino diversa. Quale? La tua risposta la sappiamo. La mia è che Lotti nascondeva la sua estraneità, perché vi era stato un probabilmente tacito patto con gli inquirenti, del tipo collaborazione uguale protezione e futura libertà. Non collaborazione uguale condanna come complice al pari di Mario Vanni. e oramai, pensava lui, non gli conveniva tirarsi indietro. L'insistenza di Lotti nel difendere la propria colpevolezza a processo, spalleggiato dall'avvocato e palesemente guidato da non so chi, faccio per dire, si può spiegare solo in questo modo. E questo è vero. Cioè Lotti, qui di fronte ai consulenti, mettiamo pure che fosse nella condizione che dice Frank Powerful. Era innocente, era estraneo. di fronte ai consulenti, difese la propria estraneità. Cioè, cercò di impedire che i consulenti si accorgessero della sua estraneità. Perché? Perché potrebbe essere stato che gli era stato promesso, finito il periodo di agio, diciamo, del sistema di protezione, di tornare libero e non di andare in carcere. Poteva essergli stato promesso questo. Beh, allora, questo è un argomento molto delicato, ma c'è da dire un fatto che è l'unica spiegazione che si può dare alternativa a quella di un Lotti che nascondeva di essere il mostro. Perché? Perché lo scenario di Lotti succube di Pacciani, compagno di merende, non regge. Quello va assolutamente escluso. Restano soltanto gli altri due scenari, di Lotti che era innocente e di Lotti che era il mostro di Firenze. Di fronte a Fornari e Lagazzi o Lotti nascondeva di essere il mostro o Lotti nascondeva di essere estraneo. Però c'è da dire, poi magari ci torneremo su questo argomento andando anche a vedere le sue reazioni quando poi venne messo di fronte agli esiti dell'esame di Fornari e Lagazzi. Cominciamo a dire qualcosa e qualcosa può essere questo. Se Lotti nascose il fatto di essere estraneo fu molto molto convincente perché convinse i suoi interlocutori che era più colpevole di quello che sembrava. Cioè li convince che era un potenziale serial killer. Cioè ricordiamoci il giudizio che loro dettero. Cioè Lotti era un potenziale serial killer. Aveva delle caratteristiche tipiche del serial killer. Cioè Lotti non era un personaggio succube di Pacciani come voleva come voleva passare come aveva voluto passare. Era qualcuno che la sapeva lunga. Cosa possiamo possiamo dire? Che i consulenti si fecero ingannare a tal punto da non accorgersi di avere davanti un innocente? Questo io penso che sia un po' difficile. Comunque un altro problema che questo scenario comporta è quello del rapporto tra Lotti e i suoi avvocati. In questo momento cioè nel momento in cui Lotti era stato esaminato da Fornari e Lagazzi il suo avvocato era Falciani adesso non mi ricordo il nome Alessandro Alessandro Falciani che era subentrato a Neri Pinucci. Neri Pinucci l'abbiamo visto in un'intervista nel filmato Rai nel documentario Rai si era dimesso abbiamo visto perché non riusciva a fare il suo lavoro di difensore. Falciani si subentrò a Neri Pinucci in questo periodo c'era lui poi a inizio gennaio tra dicembre e gennaio 96-97 si dimise anche lui così la giustificazione pubblica sua fu quella di suoi problemi ma quello che invece venne fuori si capì è che lui aveva protestato contro l'emergere di tutte le informazioni che Lotti aveva dato in sede di lettera spontanea interrogatori successivi come quello di aver sparato a giugoli e così via in ogni caso è pensabile che Lotti non avesse messo al corrente i suoi avvocati di questo suo tentativo di accreditarsi come colpevole pur essendo innocente cioè i suoi avvocati non si sarebbero accorti di nulla allora sicuramente Neri Pinucci non si accorse di nulla perché se no non sarebbe andato in televisione a dire quello che ha detto per cui per Neri Pinucci il Giancarlo Lotti era un reo confesso di di una sua partecipazione ai delitti del mostro insieme a Vanni Al Pacciani Falciani Falciani si è dimesso tra dicembre e gennaio e perché si è dimesso se lui era al corrente di questo così anche di questo accordo tacito tra Lotti e gli inquirenti gli sarebbe andato bene tutto perché doveva dimettersi come così come protesta credo per le notizie che erano emerse poi bisognerebbe chiederlo a lui se veramente sapeva qualcosa oppure no dell'innocenza di Giancarlo Lotti Bertini Stefano Bertini che fu l'avvocato di Lotti fino poi alla fine del suo percorso giudiziario e sappiamo oggi come oggi che ha avuto diciamo un grave infortunio nella sua carriera tanto che pare che sia stato radiato dall'albo per una brutta storia però io non so avrà fatto il suo errore però è pensabile che avesse fosse stato vicino a Lotti istituendo assieme a lui credo una linea difensiva che lo voleva portare verso una condanna più mite per la partecipazione minima e per il fatto che lui aveva raccontato era un pentito cioè tutto questo lavoro che Bertini aveva fatto assieme a Lotti che poi non produsse grandi risultati perché alla fine poi Lotti fu condannato lo stesso e non ebbe sconti di pena è pensabile che in tutto questo percorso durato anni Bertini fosse stato consapevole che Lotti era innocente e avesse comunque continuato a lavorare su questa su questa linea difensiva io non lo so è possibile ma io non penso si è anche visto un'intervista di Bertini mi sembra che Cocchi l'aveva intervistato dove lui racconta che Giancarlo Lotti gli aveva sempre detto sì sì io ho partecipato ho partecipato e lui dice ma io ho avuto queste informazioni da lui lui non si è mai smosso da questa linea è pensabile che stesse mentendo in quella in quell'intervista io non credo cioè io credo che Lotti con i suoi avvocati abbia mantenuto lo stesso atteggiamento che aveva nei confronti delle forze dell'ordine un innocente che per tutti quegli anni sarebbe riuscito a mascherare la sua innocenza anche con i propri avvocati è un po' difficile pensarlo però è una possibilità anche questa vedremo però che c'è un argomento che quando poi Lotti andrà di fronte agli inquirenti che avranno in mano i risultati della perizia Fornari e Lagazzi la sua reazione sarà difficilmente spiegabile nell'ottica di un innocente che in qualche modo si era accordato con con gli inquirenti l'ultimo argomento che vorrei affrontare è quello di Daniele Propato allora questa perizia Fornari Lagazzi che abbiamo visto nei video scorsi non fu presa nella minima considerazione dalla difesa Vanni c'erano tanti elementi che avrebbero dovuto indurre a mio giudizio gli avvocati di Vanni a guardare Lotti con occhio ben diverso da quello di un estraneo perché se non altro in via ipotetica a dire il vero questo quest'occhio diverso gliel'aveva dato Pepe Pepe aveva detto anche in un'intervista che è comparsa su un documentario di Cocchi ma anche sui giornali lui aveva detto ma questi due personaggi non è che magari hanno fatto qualcosa in più di quello che hanno detto e non si sa come sarebbero andate le cose con Pepe perché Pepe si dimise quasi subito all'inizio del dibattimento lui fece un incidente probatorio l'incidente probatorio fu lui però c'è da dire che all'incidente probatorio Lotti era un personaggio sconosciuto anche per lui per cui io credo che la maturazione della sua così ipotetica linea difensiva in cui Giancarlo Lotti non era un estraneo non era uno che aveva fatto più di quello che aveva detto e a questo punto si deve pensare che la possibilità fosse quella di un assassino o di un assassino che fosse lui l'assassino magari insieme a Pucci perché Pepe parla di entrambi l'incidente probatorio fu un momento in cui probabilmente Pepe cercò di capire quel personaggio poi magari dopo poteva anche aver maturato una linea difensiva alternativa a quella che poi invece venne adottata da Filastro e Mazzeo invece chi prese la perizia fornare i ragazzi sul serio fu Daniele Propato Daniele Propato era l'accusa al processo di secondo grado ai compagni di Merenda il procuratore generale e Propato lesse la perizia fornare i ragazzi e la considerò molto molto significativa e infatti nella sua arringa disse queste cose sono parole notissime però è sempre bene ripeterle riguardando la consulenza Lotti qua il migliore autore per questi reati secondo me è Lotti perversione sessuale poi vedremo questo discorso della perversione sessuale istinti omosessuali qui diciamo che c'è un po' una caduta di stile perché non è che il fatto di avere degli istinti omosessuali sempre che Lotti le abbia avuti possa essere qualificata come una caratteristica di un serial killer comunque Lotti è mancino ma per certe cose usa ambedue le mani e c'è una cosa che mi allarma il francese una volta dice che è stato preso col destro e accoltellato col sinistro ma i periti dicono da destra a sinistra che fa proprio pensare a un mancino qui fa un po' di confusione e Propato questo discorso è stato preso col destro e accoltellato col sinistro questo è vero però c'è una l'abbiamo visto nella dinamica c'è una coltellata data da dietro mentre il ragazzo scappava che va da sinistra a destra per cui fu inferta con la mano sinistra e evidentemente chi dette quella pugnalata era un mancino o perlomeno sapeva usare il coltello anche con la mano sinistra poi abbiamo visto che io questo è il mio giudizio passò il coltello nell'altra mano perché con la mano dominante la sinistra lo presa al collo e poi lo accoltellò con la destra ecco uno che sapeva usare la destra e la sinistra come era Lotti è proprio la persona giusta per essere diciamo la persona che aveva fatto quel lavoro comunque ritorniamo appropato la consulenza dice guardate che Lotti non è un mitomane è vigile lui sa come rispondere persino ai consulenti valuta le risposte si regola a seconda dei casi è cosciente della sua posizione in qualche momento dice l'agazzi rispondeva in modo palesemente e volutamente evasivo alle domande che gli facevamo e riferiva elementi che facevano parte soprattutto della sua storia personale è una persona che davanti a domande specifiche talvolta eludeva le stesse domande oppure si limitava a ribadire che su determinati argomenti non ha nulla di più da dire dice che pur essendo persona di risorse culturali e sociali limitate era in grado di reggere validamente un colloquio con gli interlocutori è l'atteggiamento di una persona molto attenta a quello che diceva molto attenta a quello che non diceva tutto quello che anche indirettamente poteva in qualche modo portare nuove discussioni su questo argomento lui lo troncava si è atteggiato a uomo mite che subisce gli altri ma i consulenti non sono d'accordo su questa valutazione e questo è Lotti e allora qui c'è da dire anche un'altra cosa che Propato purtroppo in questo suo giudizio della perizia fornare i ragazzi che poteva portarlo a una visione di Lotti in una chiave nella chiave praticamente in cui lo vedo io fu ostacolato da certi elementi in particolare da quello del fatto che sembrava che lui a settembre nel fine settimana del delitto degli scopeti non avesse la macchina rossa cioè era stato portato dalla difesa Vanni della documentazione che attestava che lui aveva comprato un'altra macchina che aveva avuto con quest'altra macchina degli incidenti e tutto un argomento che abbiamo affrontato nel video sulla macchina rossa e così via poi abbiamo visto che molto probabilmente dietro c'era una gabola del concessionario che poi era anche l'assicuratore e così via quella macchina era stata intestata a Lotti e assicurata a suo nome a sua insaputa questo secondo me poi nel momento in cui Lotti aveva i soldi per pagare al 20 settembre cioè dopo il delitto degli scopeti gli venne consegnata però intanto era già stata assicurata e intestata a lui e lui non se ne rese conto poi lì c'è anche tutto il discorso che quando poi venne messo di fronte a questa questa situazione lui per tagliare la testa al toro disse le usavo tutte e due e così via allora Propato di fronte a questa situazione della macchina rossa rimase interdetto cioè da una parte vedeva in Lotti il colpevole ideale dall'altra c'era qualcosa che gli diceva che Lotti quella macchina rossa a settembre non ce l'aveva e rimase molto confuso va bene direi che a questo punto possiamo affrontare il tema che sarebbe di questo video che è quello della lettera spontanea partiamo da questo documento firmato da Canessa dal PM indirizzato a Giuttali al dirigente della squadra mobile Firenze 7 novembre 1996 ricordo che l'ultima visita dei consulenti fornari e ragazzi a Lotti era stata il 29 ottobre il 29 ottobre cioè era stata diciamo una settimana abbondante prima di questa lettera in questa lettera si dice per ragioni di giustizia penale concernenti le indagini relative al procedimento 5047-95 prego richiedere al servizio centrale di protezione che Lotti Giancarlo sia presente in Firenze da domani per incombenti relativi alle indagini in corso ringrazio eccetera eccetera questo è un documento importantissimo che è uscito dall'archivio di Francesca Calamandrei qualche anno fa io quando l'ho visto sono rimasto molto colpito da questo documento vediamo perché qui in sostanza si chiede al servizio di protezione che ricordo è un servizio di protezione che svolge la sua funzione separatamente dagli organi inquirenti praticamente dalla questura in questo caso da Giuttari e anche dalla procura dal PM fanno il loro lavoro quando il PM aveva bisogno o Giuttari aveva bisogno di interrogare il testimone o se lo facevano portare oppure andavano loro e comunque Lotti era così controllato sempre dal servizio di protezione normalmente quando si doveva interrogare Lotti o si andava là ad Arezzo lui era ad Arezzo e veniva interrogato nella questura di Arezzo oppure veniva portato a Firenze in procura e poi presumibilmente la sera stessa veniva riportato al suo alloggio cioè bisogna pensare che una persona protetta ci sono delle regole diciamo delle regole che vanno rispettate perché? perché è una questione anche di sicurezza cioè il servizio di protezione deve assicurare l'incolumità della persona protetta anche se non ce n'è bisogno nel caso di Lotti non ce n'era bisogno chiaramente era una farsa questa storia la storia della protezione era una farsa era un modo che gli inquirenti trovarono per poter usufruire del testimone Lotti all'inizio testimone poi pentito nel modo più più semplice possibile cioè che non ci fossero di mezzo naturalmente i giornalisti quando era testimone oppure che non ci fosse magari da parte sua così un comportamento non consono nel caso in cui magari era in carcere per cui la situazione che venne creata era quella di una persona sottoposta al servizio di protezione anche se non ce n'era bisogno in ogni caso ogni volta che Lotti si spostava il servizio di protezione doveva assicurare la sua incolumità per cui si può immaginare che un pernottamento di Lotti da qualche parte avrebbe comportato dei problemi di sicurezza infatti io credo che non sia mai successo che nei suoi interrogatori Lotti fosse rimasto a dormire fuori dal suo rifugio ad Arezzo escluso escluso questa volta qua perché perché noi sappiamo che questa lettera è del 7 novembre si presume che o quel giorno stesso o il giorno dopo Lotti fosse stato portato a Firenze il 15 c'è una lettera che è quella con la quale viene consegnata la lettera spontanea poi vedremo alla procura da parte della questura che dice questura di Firenze squadra mobile eccetera eccetera per debito d'ufficio si trasmette il foglio a manoscritto consegnato spontaneamente dall'indagato Lotti Giancarlo a personale di questo ufficio recatosi per le idonee e riservate misure di vigilanza e tutela presso la struttura alberghiera di questo centro ov'è attualmente alloggiato per esigenze istruttorie come da nota della signoria vostra del 7 11 96 insomma dopo una settimana abbondante quell'ora del 7 qui siamo al 15 Lotti era ancora in questo albergo a Firenze insomma vicino a Firenze non so dove era dove era non si dice qui una cosa che non era mai successa che Lotti fosse stato portato via e fatto dormire fuori dal suo rifugio protetto di Arezzo e per una settimana almeno poi il giorno dopo fu anche interrogato per cui si andò ancora avanti poi non so magari il 16 venne interrogato e poi la sera venne riportato ad Arezzo però intanto era stato in questo albergo per una settimana abbondante perché la lettera che chiedeva che lui fosse portato lì parla di incombenti relativi alle indagini in corso e io credo che incombenti voglia dire esigenze no esigenze relative alle indagini in corso ma quali esigenze e allora in quel periodo ho già detto che l'avvocato di Lotti era Alessandro Falciani bisognerebbe chiedere a lui ma io non so lui cosa potrebbe rispondere perché non esistono verbali di interrogatori di Lotti in quella settimana in quei 7-8 giorni non esistono non si sa perché Lotti venne portato a Firenze non si sa in quei giorni cosa fece io non credo che venne portato a Firenze per fargli cambiare aria venne portato a Firenze per un motivo preciso allora qual è questo motivo preciso il motivo preciso è la perizia fornare i ragazzi cioè non c'è un altro un altro evento che possa spiegare questa settimana passata da Lotti a Firenze è la perizia fornare i ragazzi l'ultimo abbiamo visto che l'ultimo colloquio che i consulenti avevano avuto con Lotti era il 29 ottobre cioè una settimana abbondante prima di questa richiesta del PM di portare Lotti a Firenze è vero che la data di consegna della perizia è il 20 novembre per cui è successiva però io penso che il PM avesse discusso con i propri consulenti perché era lui che aveva chiesto quella consulenza possa aver discusso con loro già prima io penso che ogni volta che loro parlavano con Lotti il PM era lì che gli chiedeva cosa era successo perché insomma è una questione anche di strategia delle indagini sapere se c'era qualcosa da sapere era meglio saperlo subito poi sì è vero poi in fondo si sarebbe fatta un documento scritto da portare in dibattimento però intanto il PM io penso che volesse sapere quello che poteva emergere da questi colloqui e quel 7 lui sapeva benissimo tutto quello che abbiamo visto di questa consulenza ma vediamo il PM a cosa si era trovato di fronte ricordiamo innanzitutto quali erano state le sue domande le sue domande erano state queste dicano i consulenti 1 se Lotti Giancarlo sia affetto da impotenza sessuale organica o psicogena e in caso positivo in quale forma 2 quale ne sia la causa 3 quale ruolo la stessa abbia esercitato nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti 4 riferiscano quanto altro utile all'accertamento della verità clinica del soggetto cioè in sostanza questo l'abbiamo visto cosa cercava la procura la procura cercava una motivazione all'agire di Lotti all'essersi prestato a fare il complice di Pacciani e Vanni un pochino più credibile di quella che aveva accampato lui che era quella delle minacce cioè perché Lotti aveva partecipato a questi delitti è chiaro che questo tipo di 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 domanda sarebbe emersa in dibattimento cioè sarebbe venuta fuori si doveva trovare una spiegazione ma vediamo quale qual è stata in fondo alla perizia fornare i ragazzi che ripeto venne consegnata il 20 ufficialmente ma io penso che questi queste considerazioni che sto per leggere fossero state espresse al PM magari non in questa forma magari a parole già già prima questi sono risposte acquisiti Lotti Giancarlo è affetto da disturbi dell'erezione e dell'orgasmo di natura psicogena detti disturbi possono essere accentuati dall'uso di bevande alcoliche ma sembrano con maggiore verosimiglianza essere collegati con aspetti di carattere perverso propri della personalità del soggetto che non possono trovare adempimento in un normale atto sessuale e la cui frustrazione può forse contribuire alla scarsa performance del soggetto cioè qui quello che dicono i consulenti e credo che le loro convinzioni siano dovute più ai risultati dei test che fecero quelli che abbiamo visto piuttosto che ai colloqui cioè secondo loro Lotti aveva qualcosa di perverso dentro di sé che poteva portarlo a desiderare di partecipare a questi delitti in particolare in altra parte della perizia si dice che poteva essere un soggetto a cui piaceva guardare piaceva guardare tra le cause che si trovano alla base di questa situazione sono da segnalare l'isolamento in cui ha trascorso la sua infanzia e adolescenza la colpevolizzazione delle sue prime curiosità e approcci erotici la mancata acquisizione di abilità relazionali e sociali il complesso di inferiorità in lui presenta a tutti i livelli intellettivo affettivo relazionale sociale ed economico nonché di elementi maggiormente perversi soprascitati e allora questi elementi perversi quali sarebbero vediamo cosa avevano individuato i consulenti nulla ci parla di una possibile genesi somatica della limitata funzionalità erettile del periziando mentre emergono moltissimi elementi in merito alla possibile influenza che in tal senso può essere esercitata dagli aspetti maggiormente perversi della sua personalità aspetti rispetto ai quali assume particolare significato la sua scelta di portare l'amica Bartalesi ad amoreggiare proprio nel luogo del delitto del 1985 forse al fine di incrementare la propria performance con il ricordo di quanto accaduto in quello stesso luogo ai consulenti parve insignificativo quel fatto raccontato dalla Bartalesi di Lotti che aveva voluto fare l'amore sulla piazzola di Scopeti a dire il vero ci sarebbe stato anche la stessa cosa sulla piazzola di Baccaiano ma sappiamo bene che la Bartalesi si era rifiutata e Lotti gli aveva detto quando sei con me il mostro non c'è secondo i consulenti questo fatto di Lotti che volle fare l'amore sulla piazzola di Scopeti sarebbe indice della sua perversione cioè del fatto che in questo modo lui avrebbe raggiunto questa sua questa eccitazione questo può essere anche vero però c'è anche da dire che evidentemente non funzionò perché lui non riuscì ad avere questo rapporto sessuale con la Bartalesi però però si masturbò e questo effettivamente devo dire che io non so personalmente io è una cosa che cioè è capitato a tutti che credono che in certe circostanze il nostro amico non ha risposto alle sollecitazioni penso che nella vita sessuale di tutti di tutti i maschietti naturalmente sia potuto capitare però cosa fa uno poi si mette da parte e si masturba io penso di no se Lotti lo fece può essere che effettivamente dentro di lui ci fosse qualcosa che viaggiava di sessuale che viaggiava in modo diciamo così non proprio non proprio diritto e che questa sua impotenza potesse anche avere questi risvolti cioè che avesse bisogno per poter trovare diciamo l'eccitazione di situazioni in cui c'era qualcosa di non normale insomma in questo caso il ricordo di quello che lo aveva fatto in quei luoghi forse questo è credo che sia quello che pensano i consulenti nel caso non si può quindi parlare di una vera e propria impotenza non supportata da aspetti somatici né da aspetti psicogeni ma si deve parlare di una scarsa propensione del soggetto a raggiungere l'eccitazione sessuale in situazioni che non siano confacente le sue aspettative e probabilmente a quei desideri a quelle fantasie dei quali non può farsi l'atore in un rapporto eterosessuale e mercenario comunque continuiamo questo era un inciso per spiegare un po' questo discorso dell'impotenza riprendiamo la parte finale della perizia della consulenza dove i consulenti rispondono ai quesiti i disturbi sessuali che lo affliggono da anni entrano direttamente nella genesi e nella dinamica dei reati per cui il medesimo è indagato quali ricostruiti dalle indagini e dalle dichiarazioni dello stesso Lotti nel senso che hanno fatto di lui non solo e non tanto il passivo spettatore ovvero il palo l'esecutore marginale di delitti da altri organizzati pianificati e portati a termine ma anche e in modo più sottile un attento e sicuramente servizievole collaboratore degli assassini senza dubbio gratificato dal proprio ruolo e stimolato da quanto osservava in quelle occasioni e questa è una cosa importante è una cosa importante che il PM venne a sapere dalla consulenza cioè il fatto che Lotti non era quel personaggio che voleva apparire che voleva apparire nei colloqui che erano stati fatti fino a quel momento di succube di Pacciani cioè Pacciani che gli aveva detto vieni con me e basta e quello va oppure Pacciani che gli aveva detto se non vieni ti metto le mani addosso e quello va cioè Lotti aveva cercato di dare questa immagine di sé cioè della persona succube praticamente di Pacciani e i consulenti gli dicono che non è assolutamente vero questo alla luce di quanto riferito in estrema sintesi la realtà clinica del periziando può essere identificata in quella di un uomo apparentemente immune da patologie somatiche psichiatriche di rilievo ma orientato in senso omosessuale e connotato da forti istanze di carattere perverso sicuramente tali da essere parte della sua personalità delle sue scelte e della sua stessa interazione con l'esterno e qui emerge un altro elemento importante vedremo che sarà importante che è quello dell'omosessualità lo abbiamo visto la volta scorsa il PM ne venne a conoscenza dai consulenti perché non era mai emersa una omosessualità di Lotti in tutti i colloqui che erano stati effettuati con Lotti ma neppure nelle testimonianze delle persone che lo abbiamo conosciuto non aveva minimamente accennato a un'omosessualità di Lotti né la Lidi Belli né la Nicoletti per esempio neppure Pucci cioè nessuno aveva mai detto di aver visto Lotti o di aver avuto dei sospetti su Lotti omosessuale e viene fuori dalla consulenza Fornari-Lagazzi che poi viene fuori non perché Lotti avesse confessato o avesse fatto intendere ma venne fuori dal giudizio che venne dato sulle sue risposte ai reattivi che gli erano stati sottoposti ai due reattivi vediamo altre considerazioni che il PM si trovò di fronte quando gli vennero presentati i risultati del loro esame da Fornari-Lagazzi in altra parte della consulenza si legge rispetto a tali figure cioè Vanni e Pacciani il periziando ci parla di un rapporto di apparente dipendenza centrato soprattutto sul timore verso il Pacciani ed esteso fino a coercire la sua partecipazione ai fatti criminosi e il suo silenzio sempre per il timore del Pacciani questa tesi che di fatto assimilerebbe il Lotti a uno schiavo rimasto tale per molti e molti anni così terrorizzato da non permettersi neppure il minimo gesto verso i suoi persecutori appare del tutto contrastante non solo con le risultanze degli atti e con le stesse dichiarazioni dell'interessato e pertanto omissibili in questa sede ma risulta ancora più stridente se confrontato con la personalità del periziando stesso insomma questo l'avevo già detto ma qui proprio i consulenti dicono precisamente che Lotti non poteva considerarsi succube di Pacciani ma quello che aveva fatto lo aveva fatto di sua spontanea volontà ma cosa nascondeva Lotti perché Lotti forse ecco questa di tutte le cose che abbiamo visto è forse la cosa che più di tutte fece allertare il PM il PM che poi sappiamo che dietro c'era anche Vigna no c'è Calinessa ma c'era anche Vigna naturalmente la mimica piuttosto mobile è apparsa atteggiata a compiacente cortesia e apparente disponibilità nei confronti dei temi più neutrali e lontani dalle vicende per le quali attualmente si procede ogni qual volta però si sono toccati gli argomenti di cui in atti Lotti ha preso a divagare a portare il discorso su mille disturbi fisici che lo affliggono sulla necessità di essere curato il sorriso di maniera non è mai scomparso dal suo volto neppure in questi momenti ma è venuto meno il contatto oculare diretto e il soggetto ha iniziato a mostrare segni di irrequitezza e di imbarazzo ha preso a schernire e a grattarsi la testa come se non sapesse come togliersi dalla situazione combattuto tra il dire e il non dire tra il rovesciare il sacco e il tenere nascoste le carte che ha in mano per scoprirle al momento opportuno e questa è una cosa grossa per il PM cosa vuol dire questo? vuol dire che secondo i consulenti aveva molto altro da dire che non lo diceva e che magari lo avrebbe detto quando per lui sarebbe venuto il momento di dirlo quali consulenti del PM dobbiamo mettere in luce come si sia ricevuta la netta impressione che gli sia in grado di dare molte più risposte e informazioni di quanto finora fornite ma che giochi con astuzia nel centellinare il suo dire infatti non dice più di tanto e al contempo gode di tutti i vantaggi di una persona inserita in un programma di protezione di cui il ferreo impenetrabile non scalfibile il suo atteggiamento di chiusura e di rifiuto ad andare oltre insomma quello che il PM si trovò di fronte fu un personaggio che non aveva detto tutto nonostante che fossero passati ormai di parecchi mesi dal momento in cui aveva cominciato a parlare nonostante che via via gli fossero state strappate sempre più cose aveva altre cose da dire secondo i consulenti ma cosa e come come si poteva fare per indurlo a parlare perché il problema era anche quello cioè era fagliere dire queste cose fino a quel momento l'arma principale degli inquirenti per far parlare lotti era stato Pucci cioè Pucci era stato interrogato aveva detto delle cose che poi erano state rimproverate erano state messe di fronte a lotti per indurlo a raccontare meglio quello che Pucci aveva appena così diciamo abbozzato per quello che ne sapeva lui e le cose erano andate molto avanti si era arrivati molto avanti rispetto alla partenza però sembra che da quello che avevano capito i fornari e i ragazzi che lotti avesse avuto anche altre cose da dire ma come fagliere dire come fagliere dire e qui bisogna stare attenti egli sa molto bene che è lui ad avere la situazione in pugno ha capito molto bene cosa si attendono da lui i magistrati e i consulenti degli stessi non è che la cosa poteva essere risolta prendendo lotti e mandandone in galera no perché io penso che la cosa più semplice sarebbe stata questa lotti nasconde qualcosa ti mettiamo in galera di modo che poi magari parli è perché la cosa poteva ritorcersi naturalmente contro le esigenze degli inquirenti cioè lotti poteva smettere di parlare poteva addirittura dire no io tutto quello che ho detto prima scherzavo ci poteva essere questo pericolo anche se poi con l'intervento di Pucci penso che le cose non potevano andare così ma in ogni caso la procura naturalmente preferiva un lotti collaborativo a un lotti al quale le cose dovevano essere strappate e io penso che questa è un po' la spiegazione del perché lotti fu portato a Firenze e ci stette una settimana io non lo so cosa successe in quella settimana perché non ci sono i documenti che diano degli indizi su quello che potrebbe essere successo non esistono verbali di quella settimana e allora cosa successe lotti perché era stato portato lì cioè la legge avrebbe voluto che quando lotti veniva interrogato ci doveva essere accanto a lui il suo avvocato il suo difensore l'unico motivo l'unica situazione per quello che ho capito io nella quale lotti avrebbe potuto parlare senza la presenza del suo avvocato è se avesse voluto fare delle dichiarazioni spontanee cioè se lui avesse voluto fare delle dichiarazioni spontanee dicendo no non voglio l'avvocato ve lo dico lo stesso in una settimana poi queste dichiarazioni da dove risultano non risultano da nessuna parte per cui quella settimana è veramente un buco nero nell'istruttoria dei compagni di merende sarebbe interessante sapere quella settimana cosa successe per esempio io penso che qualcuno che intervista di qui intervista di là forse avrebbe fatto bene o farebbe bene a intervistare Alessandro Falciani eh Alessandro Falciani di quella settimana non sapeva niente non sapeva cosa era successo in quella settimana io penso che qualche cosa lo sapesse e se non sapeva niente è bene che si sappia che non sapeva niente perché vuol dire che c'è stato qualcosa che non è andato nel modo corretto comunque dopo quella settimana lì abbiamo visto che ci fu la consegna della lettera spontanea cioè in quella settimana Lotti scrisse questa lettera che poi sarebbe stata denominata lettera spontanea una lettera che tutti conosciamo no? qui vediamo l'originale purtroppo c'ha una parte che è stata cancellata omissis chissà perché sarebbe interessante sapere cosa c'era scritto sappiamo quello che c'era scritto soltanto dal libro di Juttar il mostro dobbiamo credere a quello che ha scritto lui a dire il vero ci sono piccole differenze su alcune parti rispetto a quello che si legge ma queste sono forse da imputare anche a difficoltà di comprensione questo lo vedremo comunque diamo un'occhiata a questa lettera prima di prima del suo contenuto alla parte grafica questa lettera vediamo che è scritta in stampatello ci sono alcune parole che sono scritte in corsivo e sappiamo che è una lettera così si è sempre detto che è una lettera sgrammaticatissima la dimostrazione di come Lotti non sapesse scrivere ma è arrivato il momento di andare un pochino più a fondo su questa lettera tenendo conto anche di quello che abbiamo detto riguardo il mancinismo contrastato di Lotti e i disturbi che potrebbe aver portato questo contrasto al suo mancinismo perché il fatto che sia sgrammaticata non è dovuto alla mancanza di informazioni di grammatica di chi la scrive o perlomeno non principalmente a quella ma è dovuto ai disturbi dell'apprendimento cioè quei disturbi di cui parlavamo prima cioè in questa lettera io sono un ignorante su queste cose però ho cercato di capire ho cercato di leggere ho cercato di documentarmi e sono giunto alla conclusione che come minimo da questa lettera si evince che Lotti soffriva sia di disgrafia sia di disortografia più di disortografia che di disgrafia secondo me comunque vediamo allora la disgrafia abbiamo detto che è la difficoltà della persona di scrivere proprio il tratto cioè la persona sa bene quello che dovrebbe scrivere ma fa fatica a scriverlo e i suoi scritti sono fatti di lettere di parole in cui dentro ci sono lettere grandi lettere piccole che si alternano magari la scrittura invece di andare orizzontalmente va inclinata oppure addirittura ci possono essere parole che saltano un pezzo se vanno sotto vanno sopra diciamo che è un un problema proprio lettere scritte male uno vuole scrivere una A e invece di scrivere una A scrive uno sgorbio questa è la la disgrafia vediamo qui un esempio di disgrafia chi ne soffre preferisce in genere scrivere nel stampatello perché è più facile e come del resto Fescelotti con la sua lettera ma ogni tanto può inserire dentro delle parole scritte in corsivo anche in questo caso come Fescelotti lo vediamo qui faccio notare che la H maiuscola Lotti non la scrive mai quando è davanti al verbo avere la toglie quando è dopo la C la scrive in corsivo ma io direi che un ulteriore indizio per pensare che Lotti soffrisse di questo disturbo è dato dalla sua firma la vediamo qui pensate a una pagina intera scritta con questa calligrafia ma ancora peggio è la disortografia la disortografia è invece la difficoltà per chi ne soffre di associare a un suono un simbolo cioè lui non è capace bene di capire dato un suono qual è il simbolo corrispondente da scrivere nelle frasi che vengono scritte da persone che hanno questo disturbo ci sono delle parole che mancano di alcune lettere oppure hanno delle lettere che sono sbagliate invece di essere una lettera è un'altra e qui nella lettera di Lotti abbiamo talmente tanti di quegli esempi vediamone qualcuno ma poi ognuno di voi si potrà sbizzarrire nel cercarne molti altri ecco vediamo questa parte qui picchiato lui lo scrive come picchito per cui è partita la doppia c ma è partita anche la a Pacciani che volte che volete che volete Lotti voleva scrivere che volete è partita la E venire con noi co manca la N che facevi la V al posto della F questo è tipico dei disortografici che sbagliano un suono per un altro facevi invece che facevi poi il bardella bardella è partita una L ti inulavi qui non mi fate dire la parola giusta lo capite anche voi ti inulavi che va a giovoli non giovoli ma giovoli siamo arrivati vicino ale ale piazzetta ale non alla ma ale avvenuto avvento avvenuta addirittura qui perde la V av e perde la U avvenuto voglio far notare anche una cosa che molte volte Lotti in più della metà dei casi non scrive la doppia lo vediamo qui sulla prima pagina quelle in verde sono le doppie giuste quelle in rosso sono le doppie che sono state perse vediamo pichito c'è la doppia C e qui manca alla porta manca la L piazzetta la Z è partita bardella è partita una L siamo arrivati 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 è una R che è partita vicino alla alle ha voluto scrivere alla ale manca una L e così via la Z eccetera eccetera e qui ci sono le doppie ora io sarà anche un caso però insomma nella busta per la della Monica c'era la parola repubblica che era priva ad una B insomma va bene però siccome alcune volte le doppie le indovinava il della per esempio era stato indovinato ma allora abbiamo visto quali sono i problemi di grafici di questa lettera ma diamo un'occhiata anche al contenuto della lettera che commenteremo la prossima volta per il momento accontentiamoci di leggerlo faccio una premessa che questa lettera scritta malissimo abbiamo visto però è densissima di informazioni cioè Lotti è riuscito a comprimere in queste poche frasi tantissime informazioni che poi vedremo una a una e vedremo anche la possibile loro genesi per adesso leggiamola sono venuti a casa via luciano hanno pichito alla porta chi è? siamo noi chi? Mario Pietro Pacciani che volte che volete da me? devi venire con noi perché devo venire? se no si parla che facevi in quella piazzetta che la strada verso il bardella ti inculavi? Fabrizio Butini sono andato con loro e qui loro gli dicono e bah che ti abbiamo visto che facevi quella cosa lì brutta se no si parla se no si parla sono andato con loro la strada che va a Giovoli siamo arrivati vicino alla piazzetta dove è avvenuto omicidio io sono sceso dalla macchina Mario Pacciani erano gli ascesi e andavano il furgone al furgone poi mi ha chiamato vieni qui perché? vieni devi sparare tu e questa è una cosa poi vedremo importantissima sulla quale si sono versati i classici fiumi in inchiostro e qui Lotti confessa di aver sparato io allora mi ha dato la pistola in mano spara e ho sparato diversi colpi se li ho presi bene non lo so se li ho presi bene credo che voglia dire poi mi ha preso la pistola di mano è andato verso la parte sinistra altri spari è andato lui a sparare poi ha aperto lo sportello ha visto che erano due uomini allora si è incazzato come una bestia allora io mi sono allontanato allotanoto verso la macchina Pietro mi ha detto va via sì vado via perché va via poi sono salito in macchina sono andato a casa andato a letto ma non mi riusciva dormire qui c'è l'omissis questo omissis che dobbiamo riempire per forza con le parole di Giutteri che si leggono sul suo libro il mostro dove vi date queste cose della donna il seno vagina o fica Mario voglio sapere chi le date dottore che si serviva Pietro Pacciani vi pagava in soldi ma quello no mi voleva dire perché ne faceva di vagina e se perché fate cose mostrose qui riprende lo scritto che abbiamo e questa anche questa qua è una cosa importantissima ripeto questa lettera è densissima di informazioni qui in questo momento Lotti sta aprendo l'orizzonte infinito della pista esoterica dei mandanti è in base a quello che Lotti ha scritto su questa lettera spontanea che poi è partita l'inchiesta dei mandanti che poi abbiamo visto ci sono due video dove io ne parlo abbiamo visto che dietro c'era c'era ben altro era una cosa che quando Lotti arrivò qui gli inquirenti sapevano già di questa di questa pista possibile perché avevano già erano già andate ad analizzare il patrimonio di Pacciani qui c'è tutta una parte dove non si capisce nulla però io ho cercato di interpretarla perché anche le trascrizioni anche lo stesso libro di Giuttari omette questa parte c'è una frasetta che però io penso che sia male interpretata io ho cercato di interpretarla magari provateci anche voi confrontatevi con la mia interpretazione io l'ho capita così fate cose mostrose ma io non le avrei fatte ma voi levate le fate e per le famiglie di questi omicidi non vi importa cioè non vi importa niente dei familiari di questa gente non avete rimorsi a me mi fate schivo sivo schifo e con bestie come voi Mario e Paccia Mario e Paccia per me vi farei vi farei sparire per sempre sempre con la n dalla circlazzino e circlazzino che è proprio il caso tipico del disortografico che non riesce ad associare i simboli al suono anche questa parte è molto importante per capire le interazioni di questa lettera con la perizia Fornari-Lagazzi cioè in sostanza e qui siamo arrivati in fondo al video quello che io cercherò di dimostrare nel prossimo video è che tutta questa lettera e poi naturalmente anche quello che Lotti dirà all'interrogatorio successivo che è del 16 di novembre tutta questa lettera è assolutamente una conseguenza degli elementi che emergono dalla consulenza Fornari-Lagazzi cercherò di dimostrarlo anche anche quella l'autoaccusa di Lotti di aver sparato a gioco ma non soltanto quella per il momento vi saluto Alla prossima Grazie.